Salve a tutti e ben ritrovati per questo nuovo video, è appena successa una cosa impossibile in una partita di Karzen. In una posizione da abbandono, con Karzen rimasto con pochissimi secondi, tutti si aspettavano la sconfitta e invece Karzen cambia il destino e vince la partita. Davvero impressionante. Prima di iniziare ricordo a tutti di mettere mi piace, di iscrivervi al canale, grazie a tutti coloro che si stanno iscrivendo e iniziamo. Ok, siamo al ProCest League 2023, quarto turno, Karzen affronta con i pezzi neri il grande maestro a Wander Liang. Questa è una partita davvero impressionante. Liang inizia con pedone e4, Karzen risponde con e6, difesa francese. Liang gioca pedone d4, segue d5, cavallo c3. Cavallo c3, rientriamo nella variante principale della difesa francese. Karzen sceglie di giocare cavallo f6, la variante classica. Segue alfiere g5, pedone per e4, cavallo per e4 e cavallo d7. Karzen difende chiaramente il cavallo in f6, poiché c'è la pressione del cavallo e la pressione dell'alfiere. Liang risponde con cavallo per f6, segue cavallo per f6 e cavallo f3. Fino a qui abbiamo una normalissima partita di scacchi, posizione pari, Karzen gioca pedone c5, attacca il pedone in d4, Liang difende il pedone in d4 con c3 e Karzen gioca pedone in a6. Con pedone a6 hai idee come ad esempio b5 per sviluppare l'alfiere in b7, perché il problema di questa apertura della francese e anche della posizione è l'alfiere campo chiaro. Questo alfiere sbatte sul pedone quindi non è facile da mettere in gioco. Qui Liang continua con l'alfiere d3, Karzen cattura in d4, segue cavallo per d4, h6, Karzen interroga l'alfiere, l'alfiere si ritira in h4 mantenendo la pressione sul cavallo in f6 e Karzen sviluppa l'alfiere in c5, attaccando il cavallo in d4, sia con l'alfiere che con la donna. Qui entrambi decidono di mettere il real sicuro con arrocco e Liang gioca cavallo b3. Con questa mossa chiaramente sta attaccando l'alfiere in c5. Karzen decide di spostarlo, lo ritira in e7 difendendo anche il cavallo in f6, ma fermiamoci un attimo in questa posizione. La posizione qui è giocabile da entrambe le parti e pari, chiaramente i due sono preparati, siamo solo alla tredicesima mossa, ma c'è da dire che siamo usciti fuori dalla teoria. Quindi questa è una posizione nuova, tutta da giocare. Il problema del nero appunto è l'alfiere campo chiaro, non permette neanche alla torre di essere sviluppata. Invece il bianco ha sviluppato tutti e tre i pezzi leggeri e sta per mettere anche le torri in gioco in qualche modo. Ok, qui Liang gioca appunto donna e2, finisce lo sviluppo, collega le torri, Karzen prosegue con donna c7, arriva alfiere g3, Liang guadagna un tempo sulla donna di Karzen, Karzen gioca alfiere d6, offre il cambio degli alfieri e segue torre d1. Liang piazza la torre su colonna aperta, segue alfiere per g3, h per g3 e Karzen qui gioca e5. Con e5 appunto fa strada all'alfiere, vuole sviluppare l'alfiere con mosse come alfiere g4. Arriva torre e1, torre in e8, Karzen difende il pedone in e5, Cavallo in d2, Liang vuole trasportare questo cavallo in f3 oppure in c4 per attaccare o al limite anche in e4. Karzen qui prosegue con alfiere g4, attacca la donna e la torre, quindi Liang gioca f3, una mossa molto logica, attacca l'alfiere. L'alfiere viene spostato in e6, Karzen attacca il pedone in a2 ma lascia in presa il pedone in e5. Tuttavia Liang non è interessato a catturare il pedone in e5 ma gioca cavallo in e4. Con cavallo e4 offre il cambio dei cavalli, vuole catturare ad esempio di alfiere e mettere pressione sul pedone in b7. Qui segue donna b6 scacco da parte di Karzen, re h2 e ora Karzen sta attaccando sia il pedone in b2 che quello in a2. Decide di guadagnare un pedone ovvero gioca alfiere per a2. Sembra una mossa normalissima ma di fatto è un errore. Il nero infatti anche se ha un pedone in più inizia a stare peggio. E Liang in questo caso è bravissimo perché riesce a trovare la sequenza di mosse giusta, quindi passa in vantaggio, anzi accumula piano piano sempre più vantaggio. Ora vediamo. Qui intanto gioca pedone b3, intrappola l'alfiere, vuole andare a catturare l'alfiere in a2. Quindi Karzen è costretto a giocare alfiere per b3 ma arriva a torre b1. Di nuovo la torre inchioda l'alfiere poiché attacca anche la donna a raggi x. Quindi Karzen qui gioca pedone a5. L'unica cosa che può fare chiaramente è quella di andare a difendere l'alfiere con il pedone. E Liang qui gioca cavallo per f6. Segue pedone per f6, donna in e4. Con donna e4 Liang chiaramente vuole entrare in h7. Diciamo che qui Karzen è nei guai. Il bianco inizia a stare meglio. Non è per niente facile da giocare. Qui Karzen per tenere in questa posizione dovrebbe giocare proprio alla perfezione. Ma già ora sbaglia. Ovvero gioca torre in c8 attaccando il pedone in c3. Questo è un errore gravissimo. Liang ancora continua a giocare bene. Ovvero donna h7 scacco. Re in f8. Donna per h6 scacco. Re 7. Torre per e5 mossa fortissima scacco. Chiaramente Karzen qui non può catturare altrimenti perde la donna in b6. Quindi è costretto a continuare la marcia con il re. Gioca re d7. Arriva alfiere b5 scacco. Guardate che disastro. Re in c7. E ora Liang decide di semplificare la posizione. Ovvero gioca torre per e8. Guadagna un pezzo. Karzen decide di catturare l'alfiere in e5. Segue torre per c8 scacco. Re per c8. E rientriamo in questa posizione dove il bianco ha la qualità in più. Inoltre questi pedoni sono comunque molto deboli. E il re del nero è molto esposto. Grosso vantaggio per il bianco. Più 6 di vantaggio. E infatti Liang qui comunque continua a giocare bene. Gioca donna f8 scacco. Karzen rimane con 30 secondi di tempo sull'orologio. Mentre Liang ha ben 2 minuti. Vediamo però cosa succede. Karzen continua con re c7. Segue donna per f7 scacco. Liang in pratica sta mettendo la donna in presa. Sta cercando di continuare a semplificare la posizione. Di fatto non è sbagliato. Qui infatti rimane sempre in vantaggio. Anche se con le donne in gioco il bianco avrebbe avuto ancora più vantaggio. Poiché il re del nero era molto vulnerabile. Comunque qui vengono cambiate le donne. Rientriamo in questa posizione. Dove Karzen ha un pedone passato. Questo pedone può diventare molto pericoloso. Ora prendiamo questa posizione. Con Karzen 25 secondi di tempo sull'orologio. Un finale perso. All'alfiere per la torre. Guardate la sua forza e la sua bravura nei finali. Nei finali è un mostro. Non è uguale Karzen nei finali. Penso il finalista più forte di tutti i tempi. Pedone a4. Karzen inizia ad avanzare con il pedone. Torre a5. Liang mette la torre dietro al pedone. Arriva al fiere b3. Karzen difende il pedone. Pedone g4. Liang vuole assolutamente cercare di creare un pedone passato. Quindi segue il pedone b6. Karzen attacca la torre in a5. La torre si sposta in a7 dando scacco. Karzen sale con il re in c6. Pedone f4. Liang ora sta per creare un pedone passato. Pedone b5. Ecco che arriva g5. Pedone per g5. Pedone per g5. E Liang ha il pedone passato. Tuttavia non è proprio così semplice. Perché? Perché la casa di promozione del pedone è coperta dall'alfiere. Questo alfiere qui è straordinario. Difende la casa g8. E può supportare l'avanzata del pedone. Almeno fino in a2. Tra l'altro c'è anche il re che avanzerà. Il problema del bianco qui è il re. È un po' fuori gioco. E infatti Karzen sta già recuperando. Veramente incredibile. Con l'alfiere contro la torre. Qui Karzen gioca re b6. Attacca la torre in a7. Arriva a torre a8. Re b7. Torre in e8. Pedone a3. Ecco qui che il pedone avanza. Pedone g6. Pedone a2. Il nero sta per andare a promozione. Quindi Liang per forza deve giocare torre e1. Segue re in c6. Karzen ora inizia ad avanzare il re. Pedone g7. Ma ecco qui che questo pedone però non può andare a promozione. La posizione ora è completamente pari. Karzen gioca la mossa migliore del motore. Ovvero alfiere g8. Segue re g3. Liang cerca di mettere il re in gioco. Karzen continua con re d5. Torre a1. Re 4. Guardate che spettacolo. Il re praticamente passa di qua per fare opposizione al re bianco. E poi venire a catturare il pedone in c3. Ottima strategia. Tutto questo Karzen lo sta giocando con pochi secondi. Ora ho 8 secondi di tempo sull'orologio. Re g4. Karzen gioca re d3. Attacca il pedone in c3. Pedone c4 da parte di Liang. Alfiere per. Ora qui la situazione si fa disperata per il bianco. Liang comunque non abbandona. Entra con il re. Cerca di andare a promozione. Karzen spinge anche l'altro pedone passato. Arriva torre in c1. Ultimo tentativo da parte di Liang. Di vincere la partita. O comunque di rimanere in partita. Vuole catturare con la torre l'alfiere. Per poi andare a promozione. Ma Karzen ovviamente non ci casca. Gioca alfiere in g8. Arriva re f6. Pedone b3. Ora guardate questi due pedoni fanno paura. Torre in c8. E Karzen va a promozione. Con scacco tra l'altro. Quindi Liang qui prende e abbandona direttamente. Perché dopo aver dominato per 20 mosse. Gli è crollata la partita. E di nuovo vanno i complimenti a Karzen. In questo caso che con solo 30 secondi di tempo e posizione persa. È riuscito a ribaltare una partita. Dove aveva meno 6. Meno 6.8 di svantaggio. È stato anche fortunato in un certo senso. Che non c'era il matto immediato per il bianco. Però ragazzi qui non stiamo parlando di principianti. Cioè questi sono grandi maestri a Wonderliang. Comunque un 2643 è fortissimo. Quindi anche merito di Karzen ad aver resistito. E sembra che il destino sia dalla sua parte. Mi chiedo quante ne vedremo ancora da parte sua. Grazie a tutti per la visione di questo video. Vi invito a mettere mi piace. Iscrivervi al canale. Ciao e alla prossima. Grazie a tutti.